Allora, mi vedete? Salve ragazzi, questo è il 38. Oh, eccoci. Allora, è uscito in questi giorni, è passato da un bel po' in realtà, però, essendo che io faccio vlog e video un po' a raffica, randomici, e sono programmati, quindi a voglia, questa cosa l'ho scoperto il giorno della festa dei morti. Cioè, specifico, tutti i santi, domenica, il primo novembre. Già da un bel po', da qualche giorno, ho visto che è uscito un trailer di League of Legends per mobile, io lo sapevo che doveva uscire, ma non sapevo quando. E' uscito il trailer. E allora mi è avuto la voglia di fare una, non reaction, ma far vedere voi, della next gen, l'evoluzione di League of Legends. Ah, Crocs, no, come si chiama lo youtuber, perché sto imitando lui, vabbè, lui lo dice in un modo fantastico. Crocs. Non mi ricordo ben, si chiama così, no? E' fantastico, un saluto assolutamente, se ho sbagliato il nome, ditemelo. Praticamente, io lo conosco, dico League of Legends dal 2011, praticamente, in realtà il gioco è già dal 2009 che è uscito. E io voglio ammirare l'evoluzione cinematografica e i modelli di come sono stati proposti molte volte nei Cinematics e compagnie. E beh, spero che non c'è copyright, perché voglio assistere con un volume un po' basso, perché se no, raga, lasciate stare. E niente, voglio far parte dal primo trailer, dopo il beta, praticamente, di League of Legends, LOL, noto anche come LOL, e dal 2009 ai tempi nostri. E ovviamente ci sono state tante cinematiche, ovviamente le ho selezionate, pre-selezionate, in realtà, perché esistono tanti, ma tanti. Alcuni proprio solo per mostrare il nuovo personaggio e quindi ho evitato quelli, ho preso più quelli là generici che fanno vedere la Season, la Sessione, la Next Gen, l'evoluzione e compagnia bella, ok? Quindi, musica e cose, bene, e lo analizziamo, eh, li analizziamo pure, ok? Sarà un video molto interessante, interattivo, sfizioso, e vediamo l'evoluzione dei videogioco anche in questo modo, ok? Siamo pronti? Bene! Product not yet rated. Questo è il primissimo, raga, eh, del 2009. Mamma mia! Eh, mamma mia, guarda, la Riot, proprio, e gli alvori, la Riot Games presenta! Heroes come in many forms, some have vision, some have grace, and some have strength, but only a few E' il primo titolo, sì, questo si chiamava in questo modo, poi stavo cambiando, Sol Rium's Legends! Beta Consun 2009! Bene, e' ora di andare avanti! E' il prossimo? Questo è, diciamo, siamo già nel 2011, raga, 2011, perché il beta era nel 2009, è vero, 2010, poi nel 2011 confermato l'uscita di Giove, quindi, a voglia fa, vabbè, lui, ecco qua, questo è il libro. Diciamo che sono in HD, i video, i video, mamma mia, qui, vedere questi video, mamma mia, mi importissimo, moltissimo. Oh, ho studiato bene, però, eh. Ecco, danneggiamo, giustamente, dobbiamo andare a dare il supporto, no? I minion come erano fatti, dei goblin erano, guarda, quindi... Devo rigiocare al lì, io l'ho confesso. Ah, giocato, bello! Da bello il tank di turno. Comunque, bel colpo. Eh sì, c'è sta, c'è sta, c'è sta, raga. Ovvio che ci sta, il combattimento. Oh, però erano già bravi a fare i cinematics. Considerate che lo stiamo guardando in HD, per esempio, cioè, proprio il cinematics. Eh, magari queste combattono, non è che si facevano proprio, però. Aspettai. Eh, bel colpo, bello. Allora, questa era proprio la prima season, praticamente, di cui siamo guardati. Cinque. E arriviamo in colpo, anche loro con cinque. Ecco qua. Sei rinato e arriva a giocare. L'ho fatto. L'Ivon 3 Gen, pronto. Difficio. Oh, attenzione. Dopo di ciò, partì, ecco, poi solo L'Ivon 3 Gen si chiamò in questo modo. Basta, pansemente. Poi, ecco l'altra nuova versione. La successiva. La versione Domination. Che adesso mi dice che non c'è più, purtroppo. Questo è un po' più scar... Graficamente è un po' scarsino, però. Non possiamo farci nulla. La qualità era quella che era. Oh, mo qua invochiamo i personaggi. Questo è solo per vedere un po' la mia... La mia gioventù, come piangere nei tempi mal nati, no? Selezioni i personaggi. Oh, che faccio vedere dentro le quinte come effettivamente era il gioco. Noi evocavamo personaggi e devono giocare. Mamma mia, dovevamo selezionarli. Ecco qua. Eh, siamo per personaggi. Da considerare che io non sto mettendo questi video per un motivo. Perché così vedete come i personaggi si evolvono nel tempo. Ma soprattutto notare come molti personaggi sono stati riproposti in tanti video, tanti cinematics e come cacchio diventano figli. Per esempio, Egg Miss Fortune o E Cassopeia non l'ho mai più rivisto in un cacchio di cinematica. Manco uno. Mamma mia. Magari appoggiarsi dietro e coprirsi insomma. Ah, bellissimo. Non lo vedo da un pezzo. Qua si mostro per la prima volta dopo tanto tempo raga madonna Mephist eh, Mephist o come cacchio si chiama che poi lo sceglievo sempre perché io Mephist Mephist madonna mi viene il termine comunque lui madonna come PIX madonna quanto era figo sconfitto là dovrebbe starci Timo adesso dovrebbe muovere Timo con Lux se non sbaglio qui eh ah no Lux ah è quell'altra eh arrivano i minion vabbè lei che combatte giustamente guà già è sconfitto e che cazzo mamma mia bellissimo bellissimo se la riguarda queste scene no però si impegniamo erano Timo che tutti odiano ebbè infatti ha fatto il junk se è nascosto se è spostato un punto all'altro ah madonna ah giusto ora arriva lui che è cambiato completamente la sua ultima mi sembra con la next gen molti sono completamente cambiati molti personaggi di un unico unico di oh ecco sì allora questa cosa non lo fanno quasi mai adesso muoio è tutto normale ma una volta nessuno lo faceva mettei quella palla di energia allora dicevi ok tanto non devo fare nulla lasciala e la faccio esplodere allora quello in realtà dovevi ricolpirlo e fare un onda d'urto che poi non era poi così andava più o meno fatta in quel momento sì però una support che fa queste cose però scusami perché lei è una support c'è sta cioè peccato che sono tolto questa cosa era simpatica eh già non mi ricordo il perché oh mo qua arriviamo all'ignoranza mo arriviamo all'ignoranza ragazzi qua parliamo già del 2013 qua parliamo già del 2013 ragazzi qua parliamo già a livello 13 del 2013 quindi molto bello già se ve la differenza basto dottico poi quanto è il figo lui fa il figo no corvi eh chissà chi è allora parentesi adesso non è più così un po' mi dispiace anche se una volta tutti lo dicono ok sembra inquietante ma è un classico spaventapastri da Halloween facciamolo qualcosa di più figo infatti mo che l'hanno fatto in un modo madonna è inquietantissimo mette un'ansia addosso quell'essere ok ora come ho visto il trailer un tempo fa mamma mia cioè tu te ne puoi proprio andare vai via non sei niente a cup questo che la assisto 3 o 4 no no assisto 3 non è esagerato il paesaggio ma è un cacchio strumento che 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 Eccolo. Eccolo. Igon. Vedi. e colpito oh finalmente vediamo dopo tanto tempo Garen lei è sempre stata bellissima e rimarrà bella da quando l'hanno fatto nel tempo fa nel 2011 e ancora tuttora e cacchia no quant'è bella è una delle mie cacchia preferite assassino che che cacchia è l'unico a me spero con il teore il compagno il compagno E famma, ecco chi è arrivato Lui non aveva capito chi era inizialmente Perché aveva questa cosa deforma, in realtà era skin Cioè, è l'aspetto estetico di quello là con lo spadone vestito da vichingo Quindi non l'avrei mai riconosciuto Perché in questo trailer era skinnato Mi ha po' girato l'esco Mi ha po' girato l'esco E' la bambina La mia preferita Allora, io ho due account Uno che l'ho perso, non l'ho troppo E un altro che ci ho giocato più avanti Però avevo entrambi tutte e due di tanta roba, purtroppo E' successo che con la mia prima che avevo Avevo any gothic Avevo any gothic, ragazzi Avevo any gothic Sì, perché praticamente any gothic L'avevi soltanto con la versione beta Però avrei avuto tanti altri personaggi Che adesso sono praticamente modificati Bastante Trample e compagni appello Mi ricordo una volta una scena Questa è come che la devo raccontare Io, essendo che ho giocato dal 2011 in poi Però non ho avuto tanti personaggi Perché giocare per acquistare personaggi ci voleva Ognuno dei personaggi si prendono tramite la tua preferenza Io invece ho ascoltato un mio amico Ciao Norman Che diceva No, prenditi questo Che prendi Malfite Malfite Ecco, me lo sono ricordato di nome Malfite Gli hanno detto Ma io voglio Trample Che è figo No, non serve a niente È un persaggio inutile È un champion che non è forte Io ho detto Vabbè, allora che mi piglio Pigliti questo, pigliti questo Pigliti quello Gli prende un po' le preferenze sue Più di altro Però non le sapevo usare Infatti faccio una ghialla Giocavo a ente male Poi ho dovuto trovare In altre persone che mi piacevano Oh, me trovo benissimo Ma vi faccio ridere Trambolo io lo volevo già prendere Quando era ancora figo In quel modo strano È successo che c'è stato L'aggiornamento più avanti Quindi dopo questo trailer Paradissimente È diventato di ghiaccio E io ci sono rimasto malissimo Ho detto Ma Trambolo non è come prima Lui ha detto E vabbè Però Trambolo è forte Però io lo volevo prima È successo quindi questa cosa Che non ho potuto più avere La skin originale sua E in pratica si doveva sbloccare Perché era diventato leggendario E io ci sono rimasto male Perché era diventato leggendario La sua skin predefinita tempo fa Ma la cosa divertente Io dicevo Ragazzi come posso ottenere Trambolo classico Perché dopo passato tempo Uno mi rispose Guarda l'intelligenza delle persone A volte no Uno dice Eh ma se giocavi prima L'avresti sbloccato Io ho detto Guarda in realtà Avevo avuto l'occasione Di trovarlo Però Non avevo I big money I crediti Per averlo I punti Quindi Sai con me Non ho avuto l'onore Però non era più disponibile Di acquistarlo Non lo potevo manco Prendere come skin E chiedevo Però La mia domanda Era pure questa Per l'oggio Perché mi risposti In maniera del tipo Ah se giocavi prima L'Igonflegia L'avresti acquistato Immagino uno Che non aveva mai conosciuto L'Igonflegia A quei tempi Prima Cioè Che razza Risposte mi fate Mi date Tu poi che ne sai Tu che io magari Manco conosciò L'Igonflegia E sapevo solo Della skin Cioè Seriously Bella E mi piace troppo E' una bambina Canna Vabbè Poi te Mister Bears Questo trailer Venne fatto Per un motivo Perché finalmente Caron Venne identificato Sì Quella bella bestiorina Che si affronta Quello Nei tentacoli E infatti E' un po' E' un po' E' un po' Oh eccolo qua Perché è stato Aggiornato E Oh Ecco E' bellissimo Perché giustamente Avevano aggiornato Il bestione La Dico No Bene Andiamo al prossimo 2013 Infatti 2013 Sotto infatti Si vede il trailer Il titolo L'anno Sì Perché a volte Ho paura di sbagliare I titoli No I anni Questo è 2014 Questo si chiama La Diciamo la Next Gen Direttamente E l'hanno migliorato Il traficante In maniera spaventosa Bellissimo Vabbè 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 Ciornavano anche Lei Vabbè Vabbè Bellissimo Darius Vai Darius Draven Io Quando comprai Per la prima volta Blink of the Legend Nel 2011 Ebi gratuitamente Darius Con la sua skin alternativa Yeah Due Un 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 dai poveri e pp hai amosto un hp di vita se il coso muovo coso che la blocca e li blocca un attimo vediamo che vedete un paio la giugge e la madonna ah ivy poison scusatemi perchè mi hanno aggiornato i personaggi e poi li mostro vabbè vabbè c'è mezzo io e no allora a parte la ficaggine la tamarraggine proprio vabbè è inutile dire che sono quattro perchè giustamente il quinto il caro support ha fatto una mezza fine anche loro eh attenzione sono solo i quattro massacrato dal giard ovviamente mid contro mid perchè giustamente lui è quello che va in mid che spara a distanza e cerca di fare più kill di tutti eh vabbè lui è strafile cioè nella sua lore lui è talmente potente che se usa un'arma da norvera fa una strage quindi usa un lume si ragazzi conosco league of legends si se no non avrei mai proposto video di questo genere o non avrei mai parlato accennate jazz che poi hanno dato un onore a un fan di league of legends che purtroppo è morto un ragazzo non mi ricordo per malattia non mi ricordo poveraccio e gli hanno dedicato un una skin dove anche c'è una una sua frase cioè poi dedicata al bambino cioè è fantastico che poi se non sbaglio gli hanno dedicato un cinematic per il ragazzo cioè c'è un cinematic solo di Jax e Vivi io lo chiamo Vivi come si chiama? Vigar Vigar quello là il maghetto insomma vabbè lei si sciala è tentato cioè è tentato scusate quindi io via oh bella kill vabbè lei si nasconde comunque il caro micione è una sottospeg riferimento a predator però è pettato uh bella proprio bella 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 ovviamente lei schiva il Junker eeeh e la il mid la ha sconfitto malissimo mo' arrivano i miei personaggi preferiti di League of Legends che ancora tuttora lo uso cioè lo usavo dovrei ritornare a League of Legends a giocare? lo ammetto sono sono tanchissimo sono tanchississimo sono tanchississimo mamma è la bestia Nautilus ok parentesi sì è tutto cinemale è tutto bello ma questo è un bel riferimento alla differenza tra come il gioco e come l'ambio cinematografico perché raga diciamocelo Nautilus non fa questo ahahahahah se vabbè le cannonate c'è manco la nave da guerra sì però giustamente pure lui pensa che l'ha sconfitto scusami quello è un tank tanchissimo e tu sei un mid cioè ok tu fai danno ok ma vuoi veramente competere con un tank come lui e io e si porta male non mi sorprende e fa molto male sì e là c'è una roccia cioè vabbè Nautilus ha un difetto lo fa capire qua al di là che si mette un scudo è lento è lento cioè solo se ti grabba da problema da vicino ti esponda come tutti i appunto i i tank che la grabbano basta vedere blitz track blitz lo chiamo blitz cioè il golem basta vedere Melfite Malfite basta vedere appunto lui i tank di questo genere la loro debolezza è la velocità ma quanti pigliano fatti segnalare roccia madonna ancora poverina e scappa e scappa scappa corri è la madonna tu cacchio che trovi tipo un'esagerazione di l'ulti di tata tata evviva evviva ce l'hai fatta bravo è la madonna e beh è un giallo sei stato inutile praticamente e lei ha un salto di video oddio sennò la volve a nuove cose c'è un salto di video c'è un salto di video oddio se no la volve a nuove cose beh ma che hanno sconfitto e quando rispotto un'altra volta non è che non rispotto oh che bene bene il paesaggio beh questo è il trailer con l'hanno riaggiornato praticamente la mamma poi l'hanno riaggiornato la tavola oddio la gente ah beh fa vedere il lavoro dietro le quinte molto bello qua ti spiegherebbe il lavoro dietro le quinte figo vabbè però dobbiamo andare avanti andiamo avanti 2017 e andiamo qua lo so uno direbbe scusami siamo passati drasticamente dopo anni sì perché il cinematic non è uscito più dopo un po' anni ma uscivano dopo tanto tempo quindi ma ci sta eh perché il cinematic diventava ancora più ignorante questa era un'introduzione dei nuovi personaggi quindi non hanno fatto un trailer della season di una nuova season ma più di una lore poi come contendo e poi io non ho mai capito chi cosa sono umani c'è non l'ho mai capito perché poi i nuovi champion li ho presi in considerazione sono dei ballerini io so che questi due insieme praticamente se si gioca se si gioca insieme fanno le combo praticamente anche con il ballo possono interagire si interagisco se fai il ritmo giusto vabbè vabbè a me piace che anche il ninja delle ombre però il primo mi sfugge vabbè io di livello non ci gioco da tre a quattro anni quindi immaginate che un canto sono messo comunque caro mio tu sei un besai potremmo che si diverte ma perchè ma il ricon 2 legend rossi shala rivelettrish e di pelle questo è più un intro ai nuovi personaggi però è stato l'unico quasi trailer è stato l'unico quasi trailer del 2017 5 questo questo è stato l'unico è stato l'unico bello è vero com'è bella la season non è così all'improvviso vista in questo trailer e sono arrivati graficamente da paura da qui lo scopo era di portare un po' vivi di tornare poi portare in vita un po' la 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 dal mio 2017 perché tu stai lo avevo detto sì sì Kratos eccetera sì perché i trant i trailer oh qua siamo già nel 2018 questo è un bel trailer qua fa vedere un po' di personaggi nuovi e la intro è pure fina e tutte le idee di League of Legends con tanti personaggi fanno citazioni di tante cose tante citazioni di film, anime, serie tv anche citazioni di frase chissà ti ricordate questa citazione che per lontano parla di citazioni va bene questo è un nuovo personaggio che non ho mai preso in considerazione sfrutta la terra non ho mai capito l'elementare bello proprio mamma mia graficamente è migliorato anche con il cinema ah ecco qua una di due persone arrivato Blitz finalmente bello proprio vabbè quando balla e ride bellissimo quello non ho ancora capito più che è quello che è combattuto eh mi sforzo ovviamente contro il Kraken si però poi con personaggi femminili è tentato cioè un altro mio personaggio perfetto non lui ma il caro antagonista ma lo vedrete non è migliorato graficamente questo è soltanto la season in teoria no in realtà no questo non è la season è dopo non la faccio vedere ma infatti era riferito a una cosa così special e infatti direttamente season star sì perché era proprio l'inizio della season questo è il trailer della season piatta tutto è dura che qua spiega un po' la situazione del male e qui incontri ovviamente un personaggio dopo tanto tempo che non lo rivedavamo più e notiamo tanti bei personaggi dai facci vedere qualcosa di bello ebbè lui spiega il male oh eccoci qua guardate lo riconoscete dai perché quella next gen lo riconoscono ma come è cambiato tutto il modello è aggiornato tantissimo poi questo è uno dei cinematici più lunghi cioè uno dei più lunghi perché ci sta anche un altro che non ho avuto un mettere già io ero tantissimo oh eccolo cioè raga guarda quanto è cambiato madonna è cambiato tantissimo è un viaggio lungo pratica ben fatto del bene tante cose si è che lui è un troupe mezzo sciamano un micro sciamano troupe i più lunghi ricordi bello cioè comunque ecco se notare quelle cose di vocazioni che avevamo visto i primi video anche se non hanno niente a che vedere in realtà ho tutto abbassare il volume ragazzi sono anche il copyright non voglio avere problemi anche se credo che il rischio è la cosa dell'immagine perché non ho fatto la cosa tutto specchio ma si e qua ritorno nel passato un po i ricordi anzi questo non sembra più che altro il suo scopo è mantenere un ordine di pace il bene insomma ecco fa fare la sua storia cioè quello che ha fatto Miss Fortune per esempio io penso sempre che era una cattiva sempre invece non è una cattiva è neutrale è buona o cattiva dipende dai casi però buona parte è tranquilla e io penso che era una un po' di buona una cattivissima no? perché si vedeva anche nel 2011 cattiva che sparava perché io mo' dicevo questi vengono evocati loro hanno la loro storia il loro mondo la loro loro e dove vivono però vengono evocati in un mondo di vittor che si deve vincere o perdere basta per determinati motivi però in teoria ognuno ha la sua storia vivono in mondi loro separati in eri di tinte separati e cose varie poi mi sforzi una cosa migliorata mi ha impressionato poi con le pistole finalmente usai pistole piccole non grosse come T-Tac che cazzo è? mamma mia guardate qua avete visto? avete visto? il cane il cane madonna quanto è migliorato cioè l'ultima volta che l'ho visto nel cinematica appunto è stato nel 2011 è 2012 con vabbè no 2011 si basta c'è guardatelo dai fighissimo che poi lui rappresenta Nubi che poi il suo nemico è il coccodrillo quindi c'è stato ebbè come non dimenticarci di lei Sona che poi oltretutto è in muta però è Sona la signora senza il culo no? per i fan sì perché non ha mai mostrato nulla perché ha una veste e se la vede sotto è praticamente nero la gente tutti questi si facevano le mie battute su sta cosa poi hanno fatto una ski dove facevano il culo e tutti i volte a insedere alle gambe eeeh raga vi incontrate quando vi dissi di Trumbull mamma mia quando ho visto sta scena ho fatto la è in affia a parte che è un titano e infatti Trumbull è un gigante ma non è un buono è neanche un cattivo allora è un diciamo un cattivo perché? perché è sopra è schiavo o comunque collabora con la con la regina dei ghiacci palesemente o chiamiamo la regina la strega non mi viene il nome quel che usa le tre palle e cose male no no neanche tiene una cosa tutto di pietra sul corpo cioè non me la ricordo il nome mi sfugge e lui praticamente per diventare più forte per ricordo cioè questo ha lavorato per lei il problema il suo vero nemico nemica nemica è Ash sì l'arciere di ghiacci ma lui non è un cattivo vuole soltanto mantenere un controllo territoriale maggiore degli altri rispetto ad altri troll perché in teoria questo è il concetto mamma mia esagerato c'è poi è stato bello questa scena questa clip è stato bello perché fa vedere un po' la situazione del suo grande viaggio per trovare alla fine questo potere il male oscuro proprio che lui lo vuole distruggere avete riconosciuto chi è raga lo riconoscete lo riconoscete in teoria credo che dovrebbe essere il champion quello con un occhio solo con i tentacoli però Vigor ha quei nomi assurdi raga devo ricordare guarda io proprio che non so giocare più a League of Legends se no voglio ricordare tutti i nomi li conoscio quasi tutti a memoria moli un po' dimenticati la figata lui è il male duro molti dicono che ho troppo potuto rimani in là e va a fare c'è proprio la cosa perché lui deve prendere tante gemme di questo tipo quello è uno ma ne manco tante altre ecco vedete c'è il verde il giallo il viola manca uno il rosso il centro bene e mo qual'era il prossimo 2019 o best siamo quasi abbiamo fatto un bel po' ah no è finito questo sì dai tocca il prossimo oh questo già siamo nel 2019 l'anno scorso l'anno scorso presente l'anno scorso bello proprio con noi personale con noi personale al G9 champion cose belle con una bella sottraga è fantastico dovrei parlare altro perché se no copyright il Colosseum è DRAVEN guarda come è migliorato madonna l'anno aggiornato almeno esteticamente nel cinematica graficamente nel gioco da notare fateci caso i modelli man mano stanno entrando nel mondo del cartunesco non è proprio quel cinematoico realistico neorealismo ma i modelli pian piano stanno diventando più sempre reali ma con quella caratteristica cartunesca con quegli occhi un po' particolari un po' un'anime palesemente mezzanime fateci caso fateci caso pure DRAVEN fateci caso quel marcellone proprio proprio scolpito col marmo proprio ecco come vi stavo dicendo stile proprio non proprio realistico ma un po' più anime quella lucidità negli occhi quella cosa un po' come posso farvi un esempio Dead or Alive troppo belli troppo fatti bene troppo perfetti ecco Dead or Alive Dead or Alive è realistico ma troppo fatto sembra proprio mezzo fitto non è quel realismo al 100% ma sempre Teofa crede è reale ma in realtà è più un anime un cartone e si vede cambia molto cambia e questi e questi eh sì la solita che hanno fatto una bella scelta la bella guerra c'è la guerra dai po' è arrivata l'armata ecco questa proprio poi mamma mia la donna forbice io la chiamo scusatemi perché non mi con manco nome perché anche qui sono tutte le ex genie me sento vecchio perché alcune cose non le conosco ah ma Raven 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 è bellissima a parte come si è truccata e tutta madonna lei non è più apparsa solo mi sembra uno o due volte in qualche cinematica però rappresentante del suo personaggio perché come vi ho detto un conto sono i trailer delle season delle stagioni un conto sono i trailer dedicati ai personaggi bellissima e poi non so se l'avete riconosciuta ma lei è quella che si vede nel season nella season 1 con il trailer del 2012 anzi season 2 con il trailer del 2012 in Domination vicino a Lux uno dice come? sì perché è stata completamente modificata la riconoscete per la riconoscere dall'armatura che somiglia a Mutti adesso capite come si sono i punti per certi personaggi e arriva uno dei miei tank preferiti dopo lo resta non vediamo oh fantastico la donna ho pivro fantastico lancia la sua spada aereato il tank un altro che quello non è un tank allora lui è un semi-tank ma è un personaggio top che si usa nel top ma te sfonda il culo che non c'è questo domani se lo usi bene c'è eccolo c'è c'è allora l'hanno molto modificato perché se chi se non ricorda l'originale madonna quanto era brutto ragazzi brutto brutto era dir poco ma era qualcosa di inguardabile la cosa divertente però se tu prendi avevi le vecchie skin che erano un po' naghiarie ragazzi adesso è un figo mamma mia è la trancola vedi con questo è troppo tecnologico ancora il po' è questa è una cyborg guarda arriva è tutto figo tra ieri ecco mo si combatta guarda quanto è figo lui è il gentiluomo proprio l'elegante a Berlino ecco uno dei personaggi più ignorati lei 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 è uno di quei personaggi che ora tutto a modico che è OP ma un tempo veniva ignorata perché non si sapeva come si usava questo personaggio è uno dei pochi personaggi modificati ma ragazzi l'elegante è rimigliorata ma con le caratteristiche identiche e mo tutti hanno iniziato a capire come funziona e hanno detto mo inizia a dire no questo è forte però perché ragazzi i personaggi parliamo più di 100 champion i campioni avete capito quanto è tosta quanto è difficile memorizzare tutti i personaggi ecco perché si fanno dei ruoli infatti per me è un gioco tattico di ruolo li voglio leggere uno dice non è vero io sono andato a vedere col prescaricamento del gioco ve lo faccio vedere proprio qui giusto per sfizio perché se no uno mi dice che non è vero andiamo a vedere Leon's Legend Eccolo qua Allora Non so se lo leggete Leggete bene le caratteristiche strategia personalizzazione Io l'ho sempre detto nessuno mi ha voluto ascoltare nessuno cioè non dico che nessuno però io ho sempre detto raga l'Icon Legend è tattico è strategico uno direbbe non è vero sì perché tu gestisci tre percorsi uno sopra uno centrale uno medio uno in basso devi gestirle in un determinato modo poi c'è il concetto il concetto ruolo che scegli quel personaggio tu sei un top devi fare il top top line ok fai il semi tank vai là a combattere o fai il guerriero poi ci sta il mid che a volte viene alternato con l'AD carry uno deve perché perché l'AD carry colpisce a distanza il mid pure gestite bene la situazione sul top mette due guerrieri ok ah ma forse c'è il jungler andiamo sul jungler uno fa il jungler è tutta una tattica e si vince solo se si fa un gioco di squad punto anche senza per carità però raga è difficile beh vabbè vabbè lui che ci diverte a distrugge tutto beh vedete quant'è un tank è fortissimo resiste proprio vabbè è arrivato lui proprio il tornado proprio uh è arrivato oh raga sto piccoletto sto piccoletto allora non si usa quasi mai ma è forte è forte vabbè poi fa una cosa qui che come vi ho detto cose cinematografiche non è che fa questa cosa però fa una scioccata sì però ma è un'esagerazione bellissimo vabbè lei è lei se ci sarà pure lui è vivo vedete ve la vedo come la torna a forno c'è questa che io non ho mai capito se è buona o cattiva vabbè è stato sconfitto è stato sconfitto però ho portato tutti quanti bellissimo bellissimo bello Leo's Legend è migliorato moltissimo drasticamente drasticamente no a livello ma abbiamo l'ultimo no no ancora continuo non mi ricordo no no è il penultimo quanto è stato aggiornato quanto cacchio è stato aggiornato con la nuova armatura ovviamente alux ovviamente questo trailer della system è perché spesso si fanno vedere cose nuove eh personaggi nuovi ovviamente se ne sembra son track ah lui ma cosa abbiamo visto dopo vediamo uh il gay di turno mi dispiace dirlo lo so lo so che non lo è lo so che non lo è ma raga è femminatissimo esteticamente parlando anche se purtroppo quando io inizia a giocare la prima cosa che mi dicevano uh gli sono migli fai il cosplay io no però è bello che l'hanno rimesso in un gioco lui non lo conosco lui è un nuovo champion che non lo conosco vabbè sì lui è uno è un support no che support che ho detto è un'entica ha durato la red tantissimo e da quanto tempo che non la vedevo mamma mia lei è fantastica bella bella e oggi mi sembra che qua dovremmo vedere V dopo tanto tempo che V appare una sola clip della sua quando arriva per la prima volta ah eccola qui infatti avevo detto che c'era lei è uno dei miei personaggi preferiti anche se non mi piace come stava rappresentata qui esteticamente perché nella versione classica era più cazzuta invece qui l'hanno fatta un po' più più realistica perché aveva delle braccia mastodontiche come braccia effettivamente hanno ridiminutato le dimensioni delle braccia perché lei usa cioè lei è praticamente un tank e infatti i personaggi spesso vanno a coppia l'avete notato lei ad esempio loro sono i buoni non l'avrei mai immaginato raga vi giuro mai V forse sì perché con Jinx ma quella in fondo la cecchina praticamente penso che era una cattiva inizialmente eh madonna vabbè vabbè tecca in guerra io ve le buoni mamma dai combatti pam ma scappa paremmo c'è stato lei mi serve non mi ricordo se era una buona non mi ricordo perché non l'ho ancora capito lei praticamente è del mondo delle tenebre ok a quello che ho capito eh uno correggetemi se sbaglio ma è buona e i ragnetti che vedete sono di un altro personaggio cattivissimo che vive nel mondo di Chogat di Kazix raga lì gli conosco quasi tutti i mostri lei fa parte anche di quel mostro solo che lei è buona vabbè ma se si fonda guarda qua ma come corre quello prendi il cecchino prendi il cecchino eh mi dispiace madonna maria lui il suo primo modello estetico il primo modello se vi ricordate nel beta ma anche dopo nel 2011 era qualcosa di bruttissimo raga bruttissimo io ce l'avevo mi garbava però non sapevo come usarlo non sapevo niente di lui faceva schifo però l'avevo ma quando poi l'hanno messo con il nuovo update aggiornamenti raga il segno della croce è un vast bestione di più a categoria e la skin più brutta che aveva che era il granchio è la più figa che tiene adesso madonna mamma mia che casino non conosco bene certi versanti lui lei si adesso si ho capito un po' chi è soprattutto perché si vede nei nuovi trailer con le ragazze che si mettono a cantare si hanno fatto una seconda canzone è uscita e lei vabbè balla ed è la più porca praticamente sì perché tiene pantone di pelle ecopelle proprio ciao uh ok non è lui quello che pensavo pensavo che era un altro ok ah il grappa il grappa era il più grappa è la madonna la pelux giustamente mamma mia questo si io adoro le dark dark punk stile di questo genere cioè c'è di un lato è la madonna e ha fatto proprio Oduken no Oduken Oduken è quello è il vabbè più o meno lo stesso nome non mi viene qua citazione oh non avevo capito chi era lui ragazzi sapete chi è lui mamma mia io ce l'avevo perché mi piaceva troppo solo perché era un gargoyle ma quando l'hanno rifatto quella è una skin sì praticamente vi spiego io ce l'avevo la versione originale è stata palesemente modificata ok modificata e ora c'è questa come skin predefinita ma è un figo della miseria ha cambiato tutto questo di gioco vabbè fai io special ah no non gli avevi fatto l'ultimo c'era l'ultimo era l'ultimo e ora c'è il prossimo l'ultimo trailer che è uscito è questa e la concludiamo qui è il trailer del mobile del mobile raga del mobile ed è spettacolare guardatela vabbè tutte con son track oh books la stanno mettendo ovunque cioè fateci caso perché era quella un po' più ignorata adesso praticamente sta ovunque e lo stile poi cartonesco sta tientando fateci caso solo perché il trailer del gioco mobile non vuol dire che hanno abbassato la qualità il trailer sta fatto al pc comunque solo che questa è un'introduzione per il gioco mobile che uscirà prossimamente puoi far ridere che Lux è pazza Lux raga è pazza è uno di quei personaggi che non sai dire se è buono o cattiva è pazza fa cose buone cose cattive chi se ne frega è pazza ed ha lo sguardo ed è anche una delle mie preferite anche se non ha le tette e lo sguardo del Lux dice tutto vabbè lui è rimasto uguale si scoccia che non trova un cacchio di cartina o uno con un guarda dai è stupendo questo è tristissimo sta cosa io ci sono rimasto male cioè Blitz a me fa una tenerezza Blitz perché ha una storia triste Blitz Blitz è una storia molto triste viene creato ed viene gettato via anche se credo mi ricordo più che altro mi ricordo anche perché muore il suo creatore c'è tanta storia c'è tanta storia molti personaggi sono tristi lui mi fa tenerezza poverino e qua fa vedere come vengono evocati i personaggi rispetto alla versione poi del eh sapete perché ho fatto questa cosa? fateci caso come siamo partiti dal 2011 che nel 9 è più un intro ai personaggi nel 2011 hanno fatto vedere nella landa il combattimento il 5 personaggi 5 contro 5 e la finiamo con un trailer dedicato al 5 contro 5 oh guardate fa vedere proprio con me lo stage lei è tutta contenta e c'è Timo dopo tanto tempo Timo c'è ovvio raga Melfite Melfite lei è tutta contenta posso andare a sconfiggere i cattivi ma Melfite è qualcosa di qualcosa di che è stimato Melfite spero però raga spero veramente con tutto il cuore che la versione mobile si collega con il tuo account di League of Legends che hai di gioco perché magari ti sblocca già i personaggi che tieni già nel gioco sarebbe una figata e non mi dispiacerebbe usarlo come mobile e abbiamo praticamente lei che vabbè la donna forbice Melfite lui vabbè non poteva mettere Ari cioè ormai Ari è il simbolo di League of Legends vabbè e poi Brawl 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 come si chiamano i color Brawl vabbè lui Timo guarda voi contenti Timo lo odiono tutti è la Madonna è pazza poi parte lì con musica rap che chissà vabbè musica rap che non importa finalmente è il nostro caro Samurai Ninja è contentissimo guarda come sono contenti guarda giocano proprio ma è stata grassata tantissimo ecco perché ho il mio D ovviamente lui gode di avere un avversario forte adesso vabbè ma Melfite è stato pazzo lui è di tutta contenta completamente pazza no vabbè raga l'abbiamo conclusa qui però ribadisco mi piace troppo a parte le espressioni faccia dei personaggi troppo vedete sembra tutta una cosa cartonesca non è più come prima fateci caso cioè hanno gli sguardi proprio cartoneschi vediamo se diciamo stupendo che scena figa ecco lei è proprio Lux è proprio una raga cioè sembra un po' come posso dire lo stile un po' alla Disney proprio alla Pixar fateci caso è proprio cartonesco non è più quel realismo di prima vabbè Melfit è strafico ma lui è un titano guarda lui è il tuo ruolo cioè senza che vabbè lei è fa guarda a me il raggio di quando viene grappata guarda ha quella aspettata quell'espressione facciale solo aspetta no metti bene no aspetta no non riesco a mettere aspettate parliamo di secondi aspetta 3,2,1 via quasi vabbè andiamo pazienza comunque si è poi cartonesco uno mi può dire vabbè perché l'hanno proposto poi per il mobile non significa niente non è un trailer per il mobile è un trailer per annunciare il gioco che verrà messo per il mobile e basta e il gioco non è così ovviamente è un altavo è venuto fortemente e poi è fina poi ripeto sono contento che dopo tanto tempo raga hanno messo Melfit un'altra volta fateci caso Melfit Lux Timo fateci caso sono proprio quei tre persone che sono stati visti nella versione Domination come una delle versioni alternative di League of Legends quindi sotto sotto dei riferimenti possiamo pure prenderlo in considerazione e poi c'è lei che è tutta contenta che questa è una citazione della sua intro dove c'è tutta un'esplosione e lei a guardare tutta contenta e poi spara fuori bene raga la concludiamo qua la concludiamo qua League of Legends quindi c'è sta spero che il video vi sia piaciuto proprio per far vedere un'evoluzione di League of Legends e a me mi è sempre piaciuto League of Legends ripeto l'unica cosa che mi ha mandato a quel paese il gioco la voglia di giocarci più soprattutto è stata community mi dispiace dirlo non ha una campagna single player non ha una questione di far mostrare bene la lore dei personaggi o comunque tutto scritto va bene tramite i cinematici te lo fa capire va bene ma non c'è una lore che ti fa venire la voglia di scoprire la saga capire effettivamente la campagna o una lore peccato perché potrebbe stato poteva diventare divertente la Doom una cosa stile Doom sempre stato figo a mio avviso poi alzo le mani bene ragazzi io poi vi saluto con League of Legends e al prossimo video qui del 38 passo e chiudo e chiudo e chiudo e chiudo